Pacchino finanziata la riqualificazione della palestra di via Rubera riceverà 250.000 euro da fondi europei. L'amministrazione Petralito aveva partecipato nel dicembre scorso al bando del piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziate dall'Unione Europea presentando una richiesta di 256.700 euro per la riqualificazione della palestra di via Rubera. E' stata ora pubblicata la gradutatore e il progetto del Comune di Pacchino è stato ammesso a finanziamento. Un'ottima notizia per i nostri ragazzi e per l'intera comunità comunale, dichiarano la sindaca Petralito e l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Campo. Stiamo cercando di partecipare a tutti i bandi utili. Scontiamo purtroppo una carenza di personale a cui non possiamo porre rimedio a causa del dissesto finanziario del Comune dichiarato dai commissari a seguito della grave situazione del bilancio comunale causata dalla cattiva gestione precedente ma siamo molto fiduciosi di poter fare affluire a Pacchino cospicue risorse del PNRR.